Partecipami nasce come naturale evoluzione di un'iniziativa comunale Milano 2006 realizzata da Fondazione RCM Rete Civica di Milano in occasione dell'appunto dell'amministrativa del 2006 e aveva l'obiettivo di far dialogare in campagna elettorale i candidati e i cittadini. Si registrarono all'iniziativa circa 500 candidati tra consiglio comunale e consigli di municipio, allora erano consigli di zona e la cosa più unica che rara è che dopo essere stati eletti alcuni degli eletti continuarono a dialogare con i cittadini, da qui l'idea di far nascere a gennaio del 2007 appunto Partecipami, che di fatto rappresenta la naturale evoluzione della prima Rete Civica di Milano, cofondata assieme a Fiorella e a Giovanni Cassapulla nel lontano 1994 come iniziativa del Laboratorio di Informatica Civica dell'allora Dipartimento di Scienze e l'Informazione, oggi diventato Dipartimento di Informatica della Statale di Milano. Partecipami, che qui vedete appunto la sua home page, dove in basso trovate uno sguardo di insieme sulla partecipazione, queste sono le discussioni informate, perché su Partecipami lo strumento utilizzato maggiormente è appunto la discussione informata, che è quella discussione informata appunto dove chi partecipa può, adesso magari andiamo a vederne una sul futuro dello stadio di San Siro, che è stata tra quelle più significative che magari ha avuto anche al di fuori di Milano. Appunto lo strumento della discussione informata è stato realizzato nella piattaforma Open DCN appunto sulla quale gira partecipami, piattaforma Open DCN sviluppata da Fondazione RCMP, open source sviluppata da Fondazione RCMP assieme in collaborazione con l'Università Statale di Milano appunto con i vari tesisti che si sono arrivati, che sono passati dal laboratorio di informatica civica. Questa discussione informata appunto ha la caratteristica che tutti gli allegati, che possono essere file, video, link, ai commenti al primo posto di avvio della discussione o ai commenti che seguono, vengono gestiti in automatico e resti disponibili nel materiale informativo che vedete qui nella sezione a destra della discussione informata. Come vedete il thread è organizzato con commenti e l'indentazione in base alla risposta ai commenti. Qui hanno partecipato cittadini, consiglieri comunali e i membri del comitato del referendario appunto per eh che che aveva appunto presentato proposto due referendum per evitare l'abbattimento di San Siro. Tra l'altro hanno vinto e era stato inizialmente respinto questo referendum poi è stato hanno vinto il ricorso quindi adesso vedremo se si porterà avanti questo referendum. Tra i vari strumenti per sviluppare una discussione informata come vedete le azioni su sui singoli posti, i singoli commenti hanno la possibilità c'è la possibilità di di riorganizzare i contenuti della discussione informata. Si può da un singolo commento estrarre una nuova discussione, spostare il messaggio in un'altra discussione nel caso in cui appunto il messaggio fosse stato spedito lì per sbaglio, cambiare il precursore quindi cambiare appunto il precursore del del commento in oggetto. Inoltre le discussioni informate hanno la possibilità di di essere accorpate. Nel caso in cui venga avviata una nuova discussione su un argomento che era già presente ad esempio si può fondere il post iniziale della nuova discussione con la discussione preesistente. Quindi questi questi strumenti per la eh di organizzazione eh li abbiamo sviluppati sulla base esperienza della gestione di pluriannale della rete civica di Milano in questa piattaforma e servono appunto per tenere l'ambiente ordinato per fare far fare al community manager il giardiniere della partecipazione quindi tenere l'ambiente ordinato e eh poterlo riorganizzare per renderlo sempre sempre fruibile ai partecipanti. Vabbè a partecipare si partecipa individualmente col proprio nome e cognome da sempre come eh sempre avvenuto anche nella rete civica di Milano dal suo invio e c'è la mevige la moderazione a priori che non è assolutamente nulla che riguarda la censura ma semplicemente uno strumento servizio appunto per tenere in ordine l'ambiente e renderlo fruibile. Io penso di aver essaurito i miei cinque minuti. Se devi concludere concludi. Vabbè torniamo un attimo all'home page. Ah una caratteristica di partecipazione che oltre i cittadini oltre ad avviare discussioni informate che possono essere sia localizzate su ma con associata una mappa per localizzare discussioni ad esempio ciò avviene nelle sezioni di municipio di partecipanti. Inoltre possono segnalare gli eventi cittadini. Quindi si può andare a vedere quelli già segnalati e si può inserire un nuovo evento. Questa questa caratteristica eh poi farò e vi chiederò se su desideri ma ancora gli eventi possono essere segnalati solo dagli amministratori. No? No 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 c'è c'è la possibilità di configurare anche come. Ah ottimo grande 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 improvement perché altrimenti non la non avrei potuto usarlo per far per traghettare partecipami su desideri quando avrà la discussione informata e gli eventi gestibili. Ok quindi come vi dicevo questi sono gli eventi presenti segnalati dai cittadini e come vi dicevo in home page in basso c'è uno sguardo d'insieme sulla partecipazione dove vengono eh che è ordinato in base agli ultimi commenti arrivati nelle varie discussioni eh presenti nel portale. In tutte le discussioni che sono eh spiattellate in queste sezioni di ambiti di dibattito. Tutto ciò che avviene in tutti gli ambiti di dibattito viene riportato in home tra i tra le trenta discussioni con i commenti più più recenti.